Si è stata manteguta, abbiamo visto prodotti visionari, ma che sono in realtà già reali. Passiamo ora, se ci assiste la tecnologia, lo dico perché ci sta, di apprire il collegamento con Turico, dovrebbe esserci per noi l'AS con parte del suo team. Lars, can you hear us? Hello? Hi there. Hi. I'm sorry. Hi Lars, hi everybody, how are you doing? Very good, thank you. Great. I don't know if you can see us, we are quite a few people here waiting to have the chance to hear from your voice what is basically Wayne. I mean, we know what it is, but we like to have...